Maglie di lana, bici, polvere e soprattutto tanta passione. Domenica 24 aprile ad Arezzo si torna così a correre l'ardita, una delle più affascinanti ciclo storiche d'Italia, quella dell'Alpe di Poti. Lo sport trionfa sempre quando abbiamo queste manifestazioni ben organizzate dalle tante associazioni sportive che abbiamo sul territorio, in questo caso gli arditi del ciclismo, per un evento ormai storico, e lo dice la parola stessa, ardita, quindi lo sport trionfa per forza perché per farla ci vogliono gambe e passione. Da Piazza Grande a Ponte Buriano, armati di bici vintage di ogni tipo, sportive ed appassionati potranno pedalare in alcuni degli angoli più belli della Toscana. Ci sono tre percorsi, il cui più grande e più impegnativo sono gli 80 chilometri, ma poi si passa anche al circuito medio 50, al circuito piccolo 30 davvero per tutti, attraverseranno i comuni di Subbiano, Capolone, Castiglion, Fibocchi, oltre al comune di Arezzo che ospita la partenza e l'arrivo nella bellissima condice di Piazza Grande. Ma l'ardita sarà solamente l'emozionante conclusione di una tre giorni dedicata a chi ama le due ruote. Dal sabato mattina apre da una parte la mostra scambio al Prato e dall'altra l'altro d'onore della provincia, cioè insieme una mostra di biciclette importanti della collezione di Pasquale Morini, una mostra di pittura che si chiama Quanto è dura la salita e la biblioteca del ciclista con libri e maglie storiche del ciclismo ad Arezzo. Il pomeriggio una passeggiata con ritrovo alle tre, alle tenute poi di Fraternita a Mugliano, quindi con una degustazione, e alle 17 senza freni l'incontro con i ciclisti in Sala dei Granti. Grazie a tutti.